Torniamo a parlare nuovamente del Samsung A50. Il Samsung A50 è stato aggiornato nuovamente con un grosso major update che ha portato in particolare le patch di sicurezza ad aprile ed ha introdotto diverse novità, tra cui il Bixby Runtime che poi vedremo dopo una sorta di task manager che si basa sull'intelligenza artificiale, un'altra serie di diverse novità e anche un miglioramento delle prestazioni relative al riconoscimento dell'impronta digitale a schermo perché è di tipo ottica. Quindi voglio vedere la situazione prima dell'aggiornamento e dopo l'aggiornamento tenendo conto che ho effettuato alcuni interventi. Innanzitutto andando a schermo ho impostato la sensibilità a tocco la spunta perché io in pratica ho installato una pellicola a vetro di tipo full con cornici particolare perché è differente da tante altre pellicole vendute in commercio che hanno l'adesivo solamente nel lungo i bordi. Quindi in questo caso tutta la superficie del vetro è con colla, quindi l'aderenza è perfetta non solo ai bordi ma anche nella parte centrale e quindi in questo caso il funzionamento del riconoscimento del lettore di impronta con il vetrino non viene compromesso rispetto a quando non si è privi della pellicola stessa. Un'altra funzione che in pratica ho attivato è quella della riduzione delle animazioni, quindi andando in opzioni sviluppatore ho completamente disattivato tutte le animazioni per avere una maggiore fluidità del sistema. Poi andando in dati biometrici e sicurezza e preferenze dati biometrici ho disattivato anche l'effetto transizione schermata. Detto questo ho registrato due volte l'impronta con il pollice destro e una volta l'impronta con il pollice sinistro perché Samsung come sappiamo dà la possibilità di registrare al massimo tre impronte, quindi il pollice dalla mano destra è quello che utilizzo maggiormente e l'ho registrato due volte per aumentare proprio la sicurezza o meglio il riconoscimento. Prima dell'aggiornamento perché l'ho messo in pausa la situazione è questa, il dispositivo riconosce l'impronta registrata soprattutto quando lo sblocco avviene con la mano principale, però ci sono delle situazioni nell'arco della giornata dove talvolta va in tilt e questo sicuramente dovuto comunque ad un software ancora abbastanza acerbo ha portato Samsung a effettuare un ulteriore aggiornamento che potesse in un certo modo sistemare il problema. Comunque prima dell'aggiornamento la situazione è questa, il dispositivo come vediamo sblocca, ha sbloccato lo sblocco, non è proprio fulmino però comunque ha riconosciuto il pollice, in questo caso non ho messo bene il dito e che cosa succede? Succede che nel caso in cui il dito non viene posizionato bene la prima volta, se andiamo a riprovare lo sblocco, pur se lo posizioniamo in maniera corretta, ho notato che non sempre il sistema riesce a riconoscere ulteriormente l'impronta quindi in questo caso non ho messo la prima volta l'impronta, riprovo a sbloccare, in questo caso ha funzionato però in molti casi lo sblocco successivo alla prima volta non funziona proviamo invece lo sblocco con la mano non principale, tocco sempre per far comparire l'icona, teniamo il dito, in questo caso non ha sbloccato riproviamo, in questo caso ha sbloccato, riproviamo nuovamente in questo caso ha funzionato in questo caso ha funzionato in questo caso ha funzionato e in questo caso ha funzionato quello che ho potuto constatare è che nel caso in cui l'impronta la prima volta non funzionava e continuavamo ad insistere a farci riconoscere spesso il sistema va in tilt e quindi l'impronta non veniva riconosciuta successivamente l'unico modo per farla sbloccare per far sbloccare il sistema e per farci riconoscere l'impronta era quella di spegnere nuovamente il display far comparire la relativa icona rimettere il dito e in questo caso il riconoscimento con l'impronta riusciva nuovamente a funzionare questa è la situazione prima dell'aggiornamento voglio vedere dopo l'aggiornamento se in effetti ho notato qualche miglioramento dopo aver effettuato l'aggiornamento e come vediamo i livelli di patch di sicurezza di Android sono di aprile quindi il dispositivo ora è aggiornato l'aggiornamento l'ho fatto senza senza fare nessun ripristino di fabbrica proprio per vedere se effettivamente qualcosa diciamo era stato fatto in effetti diciamo che le migliori cose da fare in questo caso era quella di o formattare diciamo di ripristinare ai dati di fabbrica il dispositivo quindi fare un'installazione pulita di questo aggiornamento dato che l'aggiornamento comunque era consistente e importante o almeno andare a cancellare i dati delle impronte digitali io non ho ripristinato diciamo non ho fatto nessun ripristino ai dati di fabbrica e non ho nemmeno cancellato le impronte quindi sono rimaste sempre lo sblocco due volte con l'impronta del pollice destro e una volta la registrazione con il pollice di sinistro perché voglio vedere se in effetti c'è stato qualche miglioramento dopo aver fatto l'aggiornamento proviamo a sbloccare il dispositivo pollice destro e come vediamo ha sbloccato però nel primo caso ha tendennato un po' in questo caso ha sbloccato ha sbloccato ha sbloccato proviamo con il pollice sinistro sblocca 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 e sblocca in effetti questo aggiornamento mi sembra che abbia migliorato non solo il riconoscimento ma anche la fluidità dello sblocco e ovviamente sono rimasti i stessi parametri che avevo detto in precedenza quindi andando in schermo in pratica la sensibilità del tocco è attivata perché ho la pellicola 3D full in opzioni sviluppatore è rimasto l'impostazione di tutte le animazioni delle finestrelle disattivate tutte quindi le animazioni sono disattivate andando in dati biometrici di sicurezza e preferenza dati biometrici come vediamo ho disattivato l'effetto di transizione della schermata quindi in questo caso le impronte sono rimaste le stesse precedenti e noto comunque un miglioramento non solo nel riconoscimento ma anche in termini di fluidità ora provo a eliminare i dati con le impronte e a registrarli nuovamente senza fare nessun ripristino di fabbrica per vedere in effetti se con questa operazione nuoto ancora qualche miglioramento in più dopo aver rimosso le impronte digitali andiamo nuovamente a registrarle le nostre dopo aver reimpostato e registrato nuovamente le impronte noto un miglioramento effettivo della fluidità infatti il riconoscimento avviene ancora più istantaneamente rispetto al semplice aggiornamento senza però aver registrato le patch senza aver registrato nuovamente le impronte in questo caso ho cancellato le vecchie impronte e ho registrato nuovamente le impronte e in effetti noto un miglioramento dello stesso sia per quanto riguarda la mano principale ma anche per quanto riguarda diciamo la mano con l'impronta registrata una sola volta come vediamo non solo il riconoscimento è più istantaneo ma anche la velocità dello sblocco è migliorata è più diretta quasi più istantanea quindi in effetti questo aggiornamento ha migliorato notevolmente la velocità di sblocco e in più la novità che ho visto che anche la registrazione delle impronte è risultata più efficiente ed è anche più rapida prima infatti spesso ti diceva di mettere il dito in una certa posizione di tenerlo premuto più a lungo per registrare la stessa impronta ora invece sembra andare quasi più più veloce più istantaneo il riconoscimento infatti anche già nella fase di registrazione il riconoscimento avviene più facilmente quindi chi ha effettuato il questo aggiornamento senza effettuare nessun ripristino di fabbrica sicuramente consiglio di eliminare le vecchie impronte e di registrarle nuovamente perché noterete sicuramente una maggiore fluidità del sistema l'aggiornamento però non ha portato solamente alle patch di sicurezza ad aprile e a un miglioramento come abbiamo visto delle prestazioni e del riconoscimento dell'impronta digitale ci sono state anche altre novità di cui una è quella relativa alla fotocamera anteriore in pratica con la fotocamera anteriore è stata aggiunta la possibilità di effettuare gli scatti anche a 68 gradi infatti andando sulla fotocamera anteriore come possiamo vedere è ora presente sia in pratica il tasto per la fotocamera anteriore normale sia quella con effetto grande angolare quindi come vediamo la fotocamera anteriore normale sia la possibilità di avere una fotocamera con un angolo di visione più ampio che arriva a 68 gradi questa è un'altra novità che è stata aggiunta con questo aggiornamento sono state aggiunte poi due nuove funzionalità sempre nell'ambito della fotocamera tra cui l'effetto fuoco live e la nuova modalità bellezza video ma più interessante oltre alla stabilità del lettore d'impronta è sicuramente la funzionalità del Bixby Runtime con il nuovo infatti Bixby è possibile in particolare cercare di impartirli una serie di comandi in maniera tale che poi il dispositivo nel corso del tempo riesce a capire questi comandi in maniera rapida e quindi tramite un comando potremo impartirli determinate operazioni quindi in particolare andando infatti nei comandi rapidi sia quelli consigliati che nei comandi personali se andando in quelli consigliati possiamo quindi scegliere determinati comandi da impartire quando mi trovo a casa quindi impartendo solamente la voce suona a casa verrà acceso tipo il wifi, bluetooth oppure possiamo in pratica andarli ad aggiungere o possiamo crearli noi dei nuovi questi sono quelli consigliati così anche nell'ambito della produttività oppure nell'ambito del tempo libero possiamo gestire una serie di comandi attraverso il comando che noi impartiamo a Bixby questo in automatico determinerà e effettuerà queste funzionalità oppure possiamo in pratica andare in comandi personali e aggiungerne noi direttamente aggiungere un comando in base alla frase andiamo a selezionare i comandi tra tutti quelli possibili quindi tramite una voce che noi impartiamo possiamo selezionare i tipi di comandi da effettuare è abbastanza completa come funzione come funzione però penso che il Tasker che io conoscio il programma sia ancora un po' superiore però in questo caso è già presente di default bisogna solamente imparare e fare in modo che il dispositivo quindi Bixby riconosca questi comandi nel corso del tempo in maniera tale che possa poi migliorare infine l'ultima funzionalità che come Bixby Runtime in pratica proviene dai dispositivi top quindi dall'S10, S10 Plus, dall'S10E è la funzione di Call Messaggi Continuity andando in connessione infatti compare questa nuova funzionalità Call Messaggi Continuity in pratica questa funzionalità permette di inviare e rispondere a chiamati o messaggi a tutti i dispositivi che sono collegati al nostro account di Samsung messaggi ovviamente che risulteranno gratis e senza e non a pagamento comunque in definitiva diciamo che secondo me gli elementi più importanti di questo grande aggiornamento è sicuramente aver migliorato la precisione del lettore d'impronta e da questo punto di vista ci siamo ovviamente bisogna aspettare qualche giorno per vedere il funzionamento effettivo se è migliorato nel corso dei giorni e diciamo il Bixby Runtime che se impartito in un certo modo può risultare molto utile